Benvenuti al TG Sordi, ripercorriamo insieme le principali notizie della settimana e apriamo parlando di edilizia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura dei bonus fiscali per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici. È ancora possibile usare i bonus ma non si possono ottenere subito i soldi risparmiati. Secondo Pietro Garibaldi, presidente dell'Istituto Clima Liguria, il provvedimento permetterà solo a chi è più ricco di usare le agevolazioni. I dati INAIL segnalano un aumento nel numero degli infortuni sul lavoro. Rispetto all'anno precedente, nel 2022 in Liguria, c'è stata una crescita di quasi il 3%. Sempre nel 2022, nella nostra regione, ci sono stati 24 infortuni mortali. I sindacati chiedono di assumere più personale per aumentare la prevenzione e i controlli. Nel Tiguglio il settore metalmeccanico dà lavoro a più di 30.000 persone. Le aziende stanno reggendo bene nonostante le difficoltà legate ai rincari di energia e di materie prime. La IML di Casarza Ligure è l'unica azienda che ha già da tempo molte difficoltà. Solo sei lavoratori sono attualmente impiegati sui 32 complessivi. I sindacati non sanno come la proprietà dell'azienda intenda muoversi. Il 28 febbraio ci sarà un incontro sul tema. Le barriere fonoassorbenti lungo i binari a Chiavari non si faranno. La conferenza dei servizi ha dato parere negativo al progetto, in linea con la contrarietà espressa anche dal Consiglio Comunale e dalla Soprintendenza. Anche la cittadinanza si era mobilitata contro l'opera attraverso la costituzione di un comitato che ha raccolto 2.800 firme. Don Gian Emanuele Muratolore è diventato parroco di Santa Sabina di Trigoso a Sestri Levante. È stato accompagnato nella parrocchia dal vescovo Giampio De Vasini ed è stato accolto dai fedeli del piccolo borgo. Don Gian Emanuele succede a Don Enzo Frisino, pastore nella comunità di Trigoso per oltre 30 anni. Nella prima omenia da parroco Don Gian ha ricordato uno dei significati della parola Trigoso, ovvero tre gioie. L'auspicio espresso dal parroco è che il nuovo cammino della zona pastorale possa iniziare all'insegna della gioia e dell'amicizia. La Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno è uno dei monumenti più votati in Italia nella classifica dei luoghi del cuore FAI 2022. Grazie a quasi 23.000 voti la chiesa è arrivata sesta a livello nazionale e prima in classifica a livello regionale. Grazie al risultato ottenuto la Basilica potrà proporre un progetto di sviluppo e il FAI può decidere se finanziarlo. Al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno servono 1.400.000 euro per sistemare il tetto della palestra. L'obiettivo è far iniziare i lavori in estate quando la scuola è chiusa. Al momento sono stati raccolti 750.000 euro. L'ultima iniziativa per raccogliere fondi è stata una cena organizzata venerdì sera al villaggio del ragazzo. E ora parliamo di calcio. In Lega Pro la Virtus Centella ha conquistato un'importante vittoria. Allo stadio comunale di Chiavari ha battuto l'Aquila-Montevarchi per 3 a 0. Dopo un primo tempo senza reti i bianco celesti hanno sbloccato la partita nella ripresa con un calcio di rigore messo a segno da Mercai e i gol di Tomaselli e Zamparo. La Virtus Centella mantiene la terza posizione in classifica. Si conclude così questa edizione del TG Sordi. Appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci! Grazie! Grazie! Grazie!